Ciao a tutti, oggi 10 febbraio, giornata del ricordo della tragedia delle foibe. O forse sarebbe meglio dire giornata del non ricordo, o comunque del ricordo sottovoce, perché ancora oggi, a tanti anni di distanza, e nonostante sia stata istituita una giornata ufficiale di commemorazione, questo fatto, questo avvenimento storico, continua a suscitare divisioni, contrasti, e porta delle celebrazioni sempre in tono un pochettino minore, in cui si possono dire determinate cose, vanno sottaciute altre, e non bisogna scoperchiare troppi vasi. Invece noi vogliamo chiarire pochi ma semplici punti, cercando di essere sempre dal punto di vista storico e dell'obiettività il più rigorosi possibili. Partiamo dicendo chiaramente cosa non sono state le foibe. Quindi le foibe non sono state, e anzi non sono, una cavità carsica tipica dei territori orientali, come è stato insegnato per oltre 50 anni su testi ufficiali a ragazzi e ragazze italiani in ogni scuola di questo paese. Non sono questo, non sono la favoletta raccontata da qualche reduce, da qualche nostalgico del ventennio, che ha abbandonato le terre proprio nelle sue terre, proprio nel momento in cui i partigiani comunisti yugoslavi vivevano le loro radiosi giornate, donando liberazione e prospettive di liberazione a tutte quelle zone oppresse. Quindi non sono state neanche questo. Sono invece una tragedia importante nel contesto della Seconda Guerra Mondiale e della storia italiana. Ovviamente incomparabile, faccio l'accenno soltanto perché spesso viene tirato in ballo, in maniera molto sgradevole, è ovviamente incomparabile con la tragedia della Shoah, dell'Olocausto, che per dimensioni, per forme e per livello di orrore è un fatto storico che poniamo fuori da ogni tipo di comparazione. Ma è una tragedia molto importante all'interno della storia italiana di quel periodo. Una tragedia che ha portato alla morte di circa 10-15 mila persone, in larghissima parte civili, è una tragedia che ha portato all'abbandono delle proprie terre, quindi all'esilio, all'esodo di 200-300 mila persone che hanno abbandonato per sempre i territori dell'Istria, della Dalmazia, dei territori orientali, dopo secoli in quelle terre, in quelle città, dove c'era una tradizione antichissima di comunità di lingua italiana. Quindi questi sono dati storici con cui fare i conti. Ma aggiungerei qualche elemento in più. Gli infoibatori non sono, come spesso ci vengono presentati anche oggi, anche in questi ultimi anni, delle entità astratte su cui non bisogna in qualche modo andare troppo ad indagare. No, gli infoibatori sono i partigiani comunisti titini che hanno, tra l'altro, goduto per decenni dell'appoggio dei comunisti italiani, del Partito Comunista Italiano, dei suoi leader, iniziando da Palmiro Togliatti, che non potevano, ovviamente, andare ad indagare sui crimini, sugli orrori dei compagni jugoslavi, di quello che era un vero e proprio mito per decenni, cioè quello del maresciallo Tito e del paradiso jugoslavo. Quindi bisogna dire chiaro e tondo che c'è, c'è stato per decenni questa complicità che ha portato all'insabbiamento dei vari processi che si tentarono di fare dopo il secondo conflitto mondiale e a coperture e a fare in modo che calasse questa coltre di silenzio e di falsità storica su fatti così gravi. E diciamo quindi questo per dire per cosa? Per aizzare gli animi? Per creare nuovamente un clima da guerra civile? No, perché chi ha seguito questo percorso sa benissimo che stiamo cercando di intraprendere un'altra strada, cioè quella dell'obiettività storica, quello di cercare di trovare una memoria nazionale condivisa, libera, indipendente e fuori da schemi ideologici e partigianerie di ogni tipo. Però proprio per questo crediamo che una giornata come questa ha senso se si dicono le cose a voce alta, liberamente, come stiamo facendo noi in questo momento, senza sottacere, senza mettere tra parentesi nomi, cognomi e responsabilità, ma dicendo a voce alta quello che effettivamente è successo e senza omettere nulla ovviamente. Quindi così come abbiamo detto chi sono gli infoibatori, dobbiamo dire sul piano storico che gli infoibati sono in larghissima parte civili, italiani, innocenti e sicuramente ci saranno anche stati fascisti o esponenti di reparti della RSI che si sono macchiati di crimini o di atrocità ma che non per questo meritavano di essere uccisi a sangue freddo, legati con il fil di ferro e buttati magari mezzi morti in capitaccarsi dove trovavano una morte orrenda dopo giorni o settimane e che tutto ciò è ovviamente frutto invece di illegalità, di odio etnico perché di pulizia etnica di fatto si è trattato, usando un termine molto forte che spesso ci indigna perché l'abbiamo vissuto fino a pochi decenni fa in territori così vicini proprio come quelli dell'ex Jugoslavia ma di questo si è trattato quindi se diciamo però le cose tutte a voce alta in questo modo e chiaramente allora questa giornata ha un senso per urlare insieme che certe tragedie, che certi orrori non devono più verificarsi e che da italiani tutti insieme oggi piangiamo quei morti ricordiamo il loro sacrificio, la loro tragedia, le loro sofferenze quando nelle città italiane venivano spesso oltraggiati dai militanti comunisti aizzati dai vertici del partito che mandavano militanti a contestarli quando arrivavano alle stazioni dicendo arrivano i fascisti, arrivano quelli che non vogliono festeggiare la liberazione che hanno avuto dai nostri compagni partigiani quindi siamo veramente a una mistificazione enorme oggi fortunatamente viviamo un periodo in cui possiamo dire le cose chiaramente e in piena libertà e quindi diciamole senza sottacere, senza avere paura di fare i nomi e cognomi e di parlare liberamente quindi buona giornata di ricordo a tutti spero che questo piccolo contributo vi aiuti e ci aiuti a riflettere su una data così triste per tutti gli italiani grazie, alla prossima